Cinque anni che sto combattendo per avere il riequilibrio del Fondo Sanitario. La cosa sarebbe davvero scandalosa perché questi fondi sono fondi aggiuntivi rispetto al Fondo Sanitario Nazionale e sarebbe davvero uno scandalo non utilizzare neanche i fondi aggiuntivi per operare un riequilibrio nel finanziamento alle regioni del Fondo Sanitario Nazionale. Quindi dovremo tenere gli occhi aperti e per quello che mi riguarda verificheremo la coerenza di tutte le forze politiche nessuna esclusa quando dovremo decidere come utilizzare queste risorse sperando ovviamente che il governo decida di utilizzare il MES.